Voglio solo ricordare così molto disfuggita che sto ancora aspettando di sapere quando Luigi Di Maio accetta di fare con me nella mia modestia di artigiano della politica a fronte di un eminente statista come Luigi, quando accetta di fare un garbato dibattito pubblico, rigorosamente in diretta, in qualunque televisione lui voglia. Sto ancora aspettando da cinque mesi che mi dica dove ci vogliamo confrontare, civilmente e democraticamente e dove egli riterrà di rispondere a queste mie due domande. Primo, perché non posi 13 mila euro al mese netti che ti metti in tasca, avendo tu detto che da parlamentare volevi fare il monaco trappista, solo 3 mila euro al mese, adesso stai a 13 mila euro al mese netti. Secondo, siccome ti è ripresentato come porta bandiera della trasparenza, tutto deve essere messo sul web, tutto in streaming, tutto in una casa di vetro. Dopodiché apprendiamo, non solo, lo sapevamo già, che avete fatto le firme false a Palermo, ma udite, udite che i parlamentari grillini, i consiglieri regionali, quelli coinvolti in questa indagine, sono andati alla procura di Palermo e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. In nome della trasparenza hanno deciso di non parlare proprio. Quando io ho avuto qualche vicenda giudiziaria che mi ha interessato, ho rinunciato alla prescrizione, sono andato rispettosamente davanti ai magistrati ad esprimere le mie opinioni e a parlare nel merito, come si fa. E così apprendiamo che in nome della trasparenza hanno deciso di fare il silenzio stampa. Allora io attendo sempre, al di là di tutte le stupidaggini dette in queste ore, che il mio amico e nostro concittadino campano, Luigi, mi dica quando diavolo si decide a fare con me questo dibattito pubblico. Ovviamente io capisco, per uno statista come lui accettare di confrontarsi con un modesto operaio nella vigna delle istituzioni, è una cosa problematica. Però non si sa mai se decide di cambiare idea. Io sono sempre qui e mi fermo qua perché la penso un po' come Murigno. Diceva Murigno quando i suoi interrogatori volevano polemizzare con lui. Dice, io se vuoi che ti faccia pubblicità devo essere pagato. Ecco, io pubblicità gratuita non ne voglio fare più. Quindi finiamolo qui e andiamo avanti sulle cose serie.